Buongiorno, benvenuti alla segna stampa. Oggi un po' in ritardo della zuppa di porro. Mi raccomando, in questi giorni state condividendo moltissimo. Difatti la viralità di quello che facciamo è elevatissima. Ringrazio tutti quanti voi. Un po' in ritardo, sono andato a sciare, mi prendo gli ultimi giorni perché poi fino a marzo sarà una caienna tra 105 Matrix. Matrix ci sarà da fare moltissimo per queste elezioni che si preannunciano delle elezioni, più che con i colpi bassi, delle elezioni che avranno mille cose da raccontare in modo divertente. Oggi la cosa più incredibile l'ho letta su Repubblica. Tanti ne ho lette di cose incredibili su Repubblica, però in questo caso non riguardano i giornalisti di Repubblica, ma riguardano Renzi. Secondo un retroscena che ho letto oggi su Repubblica, pagina destra di rispetto, cosa si è pensato Renzi? Si è pensato di togliere il canone agli italiani, che è una vecchia, vecchissima, storica battaglia del centrodestra. E' lo stesso centrodestra che si è inventato l'abolizione della tassa sulla prima casa e che due o tre giorni fa Renzi ha detto bene, abbiamo tolto noi la tassa sulla prima casa. Insomma, si appropria delle norme e delle cavalli di battaglia del centrodestra. Ma l'abolizione del canone, che figuratevi un po' voi se adesso lo difendo, non lo difendevo e avevo qualche imbarazzo a difenderlo anche quando ero in Rai, quindi ero pagato da voi, anche se capisco cosa vuol dire il canone per un'azienda che è nata col canone, però quello che vi voglio dire, l'abolizione del canone, spiega Renzi, che vale 1,5 e 2 miliardi, bene, se si farà sì che non verrà presa dagli italiani, dice lui, ma andrà sulla fiscalità generale. Beh, allora mi dovete spiegare che cacchio, che stiamo dicendo? Cioè, la Rai, 1,5 e 2 miliardi di soldi pubblici, li prenderà, ma non li prenderà più attraverso il canone, ma attraverso la fiscalità generale, insomma il deficit in più che faranno e quindi posteranno le prossime generazioni. Secondo voi questa può essere un'ipotesi, può essere un'idea? Cioè, tu che cosa fai? Ovviamente questa è una mossa, dice giustamente, retroscena di Repubblica per fottere Mediaset, perché Mediaset raccoglie molta più pubblicità della Rai, ma la Rai senza canone non avrebbe più limiti nella raccolta pubblicitaria. Quindi Renzi che cosa ti pensa? Ti dice che per una fase di transizione la Rai potrà prendere un miliardo e mezzo o due dai cittadini, ma non attraverso il canone, e in più potrà prendere tutta la pubblicità che vuole. Quindi da una parte fotte Mediaset, o comunque l'importante è che sia uscita questa notizia per fargli prendere un po' sotto di paura quelli di Mediaset, e dall'altra rende il ciao diva, e dall'altra prende i miliardo e mezzo dai cittadini. Come se non li prende dal canone, cioè non li prende da tasca destra, li prende da quella sinistra. Io la trovo una cosa incredibile, straordinaria, e secondo me questa batte nella sua perversa logica di spesa pubblica financo le dentiere, la proposta delle dentiere fatte dal cavaliere. Secondo me Renzi, veramente lo dice qualcuno di voi, riesce a scavalcare in demagogia la proposta più demagogica del centro-destra. E comunque anche se non la farà, il segnale che ha dato Renzi è molto chiaro. Chi ha orecchie per intendere dalle parti di Mediaset lo capisce. Perché mi dice non è di media il bollo sulle auto, che è un'altra delle proposte che fa il centro-destra, io direi possiamo accontentarci di abolire il superbollo, quello inventato da Monti, che non serve a nulla. Bene, l'altra grande ipocrisia della giornata è questa storia della Bonino. La Bonino non ha un voto, ne ha pochissimi, non è neanche in grado di prendere delle firme. Cioè questi hanno preso 500.000 firme per il referendum, ma non riescono a prendere le firme per presentarsi con la loro rivista che si chiama Pi Europa. Cioè fanno gli europeisti, i democratici, i legalitari, ci spiegano che tutti gli altri sono dei maiani, eccetera, e loro non riescono a prendere voti. Che cosa fanno? Questi utilizzano un volta gabbana. Non perché lui sia un volta gabbana, perché Tabaccio è anche una brava persona, la conosco, una persona seria, per bene, fieramente sempre democristiano, di sinistra in questo caso, ma la cosa che mi viene da ridere, il volta gabbana è il principio per cui noi abbiamo fatto lo scandalo sui giornali per chi cambiava partito e nessuno di noi si scandalizza se una formazione radicale, abortista, divorcista, contro la partitocrazia e non voglio fare tutto il grande tema di pannella, bene, questo partito vive in Parlamento grazie al prestito all'ultimo minuto del simbolo centro-democratico di un movimento cattolico. Io dico, è una cosa che più mi stupisce, è che Michele Serra, oggi l'intellettuale della sinistra dei salotti buoni, non perché partecipe ai salotti buoni, ma perché viene eletto dei salotti buoni suo malgrado, perché secondo me lui vorrebbe essere eletto soltanto da se stesso, bene, che cosa dice? Il bel gesto di Tabacci, il bel gesto! Ma allora quando ci troveremo qualche parlamentare che supporta un governo che sta cadendo, come avvenne con Berlusconi, quello come lo considerate? No, noi presentiamo l'abbonino con un simbolo non suo da parte di un movimento che dovrebbe essere un movimento assolutamente antagonista dei principi ed è un bel gesto, invece se in Parlamento si sorregge un governo per non farlo cadere, quelli sono i volta gabbana, mettiamoci d'accordo, no? Mettiamoci d'accordo su questa ipocrisia, io la trovo una cosa incredibile, fantastica la storia del Museo Egizio che è salita su tutti i giornali, perché lo sapete ormai tutti quanti, perché sulla rete se ne parla molto, cosa succede? Il direttore del Museo Egizio, che come Tabacci è una bravissima persona, legge i geroglifici, giovane, preso dall'estero e piazzato lì al Museo Egizio e lo ha reso ancora più interessante, ha deciso di fare questa promozione, non so se l'abbia deciso lui o la Christine Lin, che oggi difende questa operazione di cui vi sto parlando. E l'operazione è la seguente, cioè se sei arabo, non so come viene distinto l'arabo dall'italiano, carta di credito, carta di identità, passaporto, se sei un arabo puoi comprare uno ed entrare in due, cioè è come l'esse lunga il Museo Egizio, se sei però arabo, se sei iugoslavo, se sei rumeno, se sei americano, se sei tedesco, no, devi pagare due biglietti, se sei arabo invece ne devi pagare uno solo e puoi entrare con tua moglie, pubblicità su tutti gli autobus di Torino, tra cui in questa pubblicità c'è il grande stereotipo, e cioè uomo arabo, fico, bello, donna araba con il velo, il che non è proprio scontato, anzi in questo caso c'è una donna che è in galera per essersi tolta il velo. Bene, questa è la storia di fondo, ma uno può dire, vabbè, questo ha provato, mi ricorda Tom Wolfe quando dice che la sinistra si occupa più delle pinoranze che dei redneck dell'Ohio, questo è proprio il classico esempio di cui ci si occupa più, senza nulla togliere, del pizzettaro egiziano di Torino, piuttosto che dell'operaio della Mirafiori, che potrebbe essere forse anche solo di Bari, ma comunque sia, non esiste più la Mirafiori, esistono più i pizzettari egiziani e vanno bene, che poi tra l'altro sono i più bravi di tutti, fanno la pizza meglio di noi, ma io non ce l'ho con loro, io ce l'ho con quelli che si sono pensati questa cosa, perché io ho grandissimo rispetto per gli egiziani e gli arabi che lavorano in Italia, ma non ho minimo rispetto per chi possa immaginare che ci sia uno sconto in funzione di una minoranza che per loro è politicamente corretta in questo momento, arabo, e allora perché non facciamo entrare anche magari minoranze greche al museo greco, o io che sono romano, io voglio avere lo sconto, io voglio avere lo sconto nei musei romani, sì, io voglio avere lo sconto, cari gestori dei musei romani, io voglio entrare con lo sconto al Colosseo, al Pantheon che ora si paga, voglio lo sconto perché sono romano, roba mia, e se sono cattolico doppio sconto al Vaticano, cattolico, romano e cattolico e apostolico, triplo sconto se entro ai musei vaticani, va bene? Ma questo conta poco, diciamo che questa è una minchiata fatta dal Museo Egizio. La cosa che più mi diverte è che il giornalista di Repubblica scrive la seguente cosa, a Londra i musei non si pagano e nessuno insorge. A Londra i musei non si pagano e nessuno insorge. Giornalista di Repubblica, ma che stai a dire? Questo per criticare la Meloni e la Lega che erano insorti su questa cosa da cretini, più che da razzisti al contrario. E questo giornalista di Repubblica cosa scrive? A Londra i musei non si pagano e nessuno insorge. Questo qua deve insorgere proprio lui, deve cambiare pusher. Non c'entra nulla il fatto che i musei siano gratis o non gratis. Qua c'entra la discriminazione positiva, le quote arabe per entrare nel museo arabo. Fantastica la storia di Intel. Il boss di Intel vende le sue, perciò voglio dire, non ce la prendiamo soltanto con il Museo Egizio Italiano. Intel è considerata una delle grandi aziende, mi sembra 60 miliardi di fatturato, 200 miliardi di capitalizzazione, insomma vale 5 volte la più grande azienda italiana. Il capo di Intel sapete che fa? Vende le sue azioni, 40 milioni di vendita, 29 milioni di plus valenza. Quando? Prima che si venga a sapere, oggi il Corriere e tutti gli altri ne parlano, che Intel ha fatto un casino nei suoi processori, che ne vende miliardi, forse anche in questo iPad c'è un processore Intel, anzi ho detto una minchiata, iPad non c'ha, Apple non penso che abbia su questo l'Intel. Detto questo lui vende le azioni prime, la SEC intagherà. Beh, questo capitalismo ovviamente è un capitalismo che dobbiamo un po' mettere a posto, perché non è un capitalismo, questo è un, come posso dire, un po' direbbero gli americani una roba alla napoletana, invece i napoletani sono molto meglio, molto meglio, gli italiani sono molto meglio, mi scuso ovviamente con i tanti amici di Napoli, ma è il pregiudizio che hanno nei nostri confronti quando vai a Wall Street ogni tanto ti prende veramente il sangue al cervello, perché sono vestiti bene, sono intelligenti, sono progressisti, ma se vendono le azioni quando sanno che crolleranno. Bene, allora noi italiani, noi meridionali, noi napoletani, noi mediterranei, noi arabi, cerchiamo di non avere lo stesso pregiudizio che hanno gli americani. L'ultima cosa, direi, altre due cose, vabbè, Serra oggi ovviamente dice che ritorna su Tom Wolfe e la sua straordinaria intervista, e su quella intervista dice che Tom Wolfe sfotte la sinistra, ma è soltanto la sinistra che si occupa dei desiderati, certo non lo fanno quelli di destra. Sui sacchetti succede la seguente cosa, intanto tutti voi sapete quello che noi pensiamo, quello che io penso sui sacchetti, e cioè ho preso Giuseppe Marino, l'uomo che ha tirato fuori il 31 gennaio, ma prima ne abbiamo già parlato noi, la questione dei sacchetti, e che cosa abbiamo fatto sui sacchetti? Abbiamo semplicemente fatto un fact-checking, quali sono le cose vere e le balle sui sacchetti. Io non credo che ci sia un complotto sui sacchetti, quello che penso è molto semplice, e che se si fosse voluto ridurre l'utilizzo della plastica, sempre che quello è uno dei grandi obiettivi di questo paese, non la disoccupazione, la plastica è un problema, perché inquiniamo i mari, muoiono le balene, tutte queste robe qua. Quindi la plastica è una grande priorità in questo momento, ci sta tutto. Allora, se vogliamo ridurre il consumo della plastica, dobbiamo permettere agli italiani di riutilizzare, ovviamente i sacchetti che utilizzano per comprare la frutta. È possibile farlo con questa legge? No! Se vogliamo inquinare di meno, dobbiamo far sì che si possano utilizzare sacchetti non di plastica per prendere i propri prodotti. provi i prodotti, si può fare questo? No! Il Ministero della Salute ha semplicemente detto che possiamo riutilizzare un sacchetto, non possiamo portarci il sacchetto da casa, basta che sia nuovo, cioè una presa per i fondelli, una presa per il culo. Va bene, detto questo, sui sacchetti l'ultima notazione è la ve la faccia politica, oggi ci vanno su, grandissimi, sul complotto, Novamont e compagnia cantante, il fatto e la verità. Mentre il giornale dello Scoop, cioè il giornale mio, ne parla molto di meno, anzi dà la razionalità di dare un prezzo a qualche cosa che viene considerato dannoso, cosa che fa forte, io non sono del tutto convinto che abbia ragione Francesco Forte, che comunque stimo talmente tanto, per cui io non contraddico. A voi dico, se volete sapere tutto sui sacchetti, sempre sul sito nicolaporro.it, Giuseppe Marino, in un'intervista che ho fatto, con semplicità, placidità, ci spiega cosa c'è dietro a questa vicenda. Una specie di fanatismo ecologico e green a qualche piccolo interesse legittimo aziendale. Ciao, condividete se vi piace.